Ripetere continuamente la cosa che devo ripetere. Studiare molto e magari ripetere appunto prima di affrontare la prova. In realtà non c'è qualcosa che mi dà particolarmente sicurezza, penso che comunque alla fine se sei preparato le cose le riesci ad affrontare, poi sto tranquilla e la cosa che mi dà sicurezza è che penso che ora sto concentrata, lo finisco e poi esco ed è finita. Questa domanda come non vale perché non provo ansia, quindi non c'è nulla che mi dà sicurezza perché non ne ho bisogno purtroppo. Lo studio in primis perché bisogna avere sempre una base fondante comunque, devi essere sicura delle tue conoscenze e poi soprattutto qualcosa che mi calma, quindi provo a rilassarmi, a stare un po' al telefono oppure scherzare semplicemente con le mie amiche. Io per essere sicura devo sapere tutto alla perfezione, cioè purtroppo non posso sapere le cose un po' superficialmente perché poi dopo ovviamente me le dimentico, però nonostante tutto sicuramente mi danno conforto le mie amiche perché magari se io poi non so una cosa loro mi confermano, anche loro che non la sanno e quindi allora. Beh comunque sapere di aver studiato e preparato al meglio la prova è fondamentale, quindi più che altro quello, gli amici li accantoniamo quando dobbiamo studiare. Studiare molti giorni prima e con altre persone magari, con amici e quindi niente, studiare molto. Prendo sicurezza da me stesso, però sì anche gli amici, la considerazione che hanno di me e anche ovviamente lo studio perché più uno studia è tranquillo nell'affrontare un test. Mi dà sicurezza in verità il fatto di poter alla fine finire questa cosa, prendere un, diciamo se si tratta di un compito, un buon voto, riuscire nell'impresa diciamo.